Questa sera voglio parlarvi di una cosa che fino a qualche mese fa non avevo, che è l'autostima. Autostima cos'è? È amare se stessi, comprendersi, accettarsi, perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi, anche le parti peggiori, quelle che ci fanno soffrire e che vorremmo cambiare. Ma se proviamo a cambiarle odiando tutto ciò che siamo, facciamo un casino e sbreghiamo tutto. L'assenza di autostima è una brutta bestia, se non ce l'hai senti di non valere nulla. L'anno scorso sono stata ad X Factor ospite per due volte e prima di salire sul palco ero da sola dentro al camerino. Mi piangevo e dicevo, ma cosa ci faccio qui, ma io non me lo merito e non mi riconoscevo, non mi amavo. La verità è che sono stata di merda per anni, pure a Sanremo con il disco d'esordio in uscita. Insomma stavo male sempre, ansiolitici come fossero acqua, stomaco chiuso, non mangiavo, non dormivo. Era un circolo vizioso e dicevo, ma cazzo, ma perché devo stare sempre così? E ad un certo punto è andata pure peggio. E all'improvviso nella mia vita era tutto vuoto, senza un senso, senza una pasta. E mia madre, la mia casa, il mio cane, la musica, niente, vuoto. E chiedevo alla gente, potete dirmi che senso ha, che senso date alla vostra vita? Che da sola non riuscivo più a capirlo. È stato orribile, un dolore atroce. E in quel momento ho scritto persino una delle mie frasi più belle. Non ho paura di morire, ma ho paura di voler morire. Non ho paura di morire, ma ho paura di morire. Non ho paura di morire.